Ampia disponibilità di Emiliano ad attivare l'iter di revisione della legge regionale sugli accreditamenti sanitari, inserendo la clausola di salvaguardia e l'impegno a coinvolgere la vocatura regionale sulla possibilità di applicare alla situazione del presidio Padre Pio di Capurso l'articolo 5 del DPR 207 del 2010, con la sostituzione della società appaltante, quindi l'ASL, nel pagamento degli stipendi, andando a fare una compensazione con le rette che l'azienda sanitaria eroga al presidio di riabilitazione. Un risultato straordinario che risolve a monte i problemi dei lavoratori e garantisce un servizio lavorativo di qualità, il commento del segretario generale FP CGL di Bari Domenico Ficco. Un risultato raggiunto oggi dopo che 130 lavoratori del presidio di riabilitazione Padre Pio di Capurso hanno bloccato il lungomare di Bari davanti alla sede della presidenza della regione. Un gesto simbolico che arriva dopo mesi di proteste legato al mancato pagamento degli stipendi da parte della società GMS SPA che gestisce la struttura.